Voglio un tiro da tre punti, facile da fare, devo segnare Dammi solo due rimbalzi, fammi respirare e puoi pensare Riparte, Brini si corre a Renfro che sceglie il lato destro, il blocco di Borovniak Ancora Renfro, palla battuta a terra per Borovniak, la stoppata di Martin Ghiacci recupera e va a schiacciare, Passeri tendeva a servire amoroso Molto pronto Ghiacci, anticipato e a correre velocemente in contropiede Se si non c'è idea, vedete deve partire addirittura Isley Che poi la risolve da par suo Abbiamo visto l'uno contro uno di Isley Dai tre quarti praticamente La questione qui deve essere massima di Sant'Antio 9 secondi allo scadere, Arti ancora dall'altra parte Sarà lui nuovo designato, va a Fionetto, va a Rettardi 3 secondi allo scadere, c'è sospensione 3 secondi Ed avevamo detto, c'è il rischio di supplementare Rowe contro Robinson, va da Gatto, lontano da Canestro Palla per Colussi, stoppa Dona Colussi Se ne va da solo, e in sottomano fa sparire il pallone E poi lo rimette nella rettina 20esimo punto, rivediamo Bellissimo Gioco di Masia Cambio di mano aereo bellissimo 29 a 15, ancora 14, punti di vantaggio per Imola Speffer a doppio Johnson, grande palla per la schiacciata Da parte di Di Liegro Johnson contro Masoni, vuole lo schema testa Imola ci sta capendo veramente poco in attacco Esponendosi ai contropiedi della squadra ospite Il pallone sotto ancora Per la schiacciata di Di Liegro Ennesimo gioco a due, tra i due ruchi di Ostuni 6 secondi lo schiacciata di 24 La penetrazione, l'errore, il balzo di Indoglia 20 secondi al termine Palla per Renfro Hunter In penetrazione Hunter va a realizzare 65, 64 13 secondi al suolo della sirena Più uno Enel Fortuna per prendersi sull'errore Adesso abbiamo rivisto la penetrazione di Hunter che ci ha creduto 10 secondi per il tiro Decide di attaccare l'aria Prato Fuori da Denis, la tripla della vittoria Pallone sul ferro Attenzione Tornare al rimbalzo Esce Ostuni Va il contropiede di Klobuchar Che deposita canestro Imola perde all'ultimo secondo Come è avvenuto due settimane fa Ostuni svanca la Romagna Voglio un tiro da tre punti Facile da fare Devo segnare Dammi solo due rimbalzi Fammi respirare E puoi pensare ammaro